Questa è la mia opinione sul trinciante della linea barbecue da 20 cm. Il prezzo se purtroppo non si trova su Amazon, su Amazon si trova solo il trinciante da 24 cm. Secondo me è un ottimo trinciante al pari del Victorinox. Il Victorinox mi sembra leggermente più resistente, ma questo ha un'affilatura, come posso dire, non inquadra bene, ma diciamo, intendendomene abbastanza, sembra affilato con una carta da 300 e al taglio del foglio di carta taglia bene, però ovviamente ha i limiti di una grana 300, ma tanto uno se lo usa, cioè è ben affilato, ma secondo me ha un'affilatura meno estrema il Victorinox e poi uno se lo riaffila da solo, quindi secondo me è molto valido, con una grana così aggressiva, diciamo, è più efficace sui cibi con la buccia dura. Però, diciamo, poteva essere rifinito un attimo meglio, ma tanto chiunque lo faccia a mano se lo fa da solo. Diciamo, la bava è stata tolta alla perfezione, quindi non è un problema. Il Victorinox è da 21 cm, mentre il Sanelli è da 20, quindi è un po' più piccolino e meno gigantesco da usare. Quindi non ho nient'altro da dire, secondo me è un ottimo coltello. Diciamo, il prezzo è lineato e va bene. Se volete comprare italiano potete prenderlo. Non è come un Sanelli che ha la lama che dura 20 minuti perché è troppo scarsa di tempra.